Professor Vicari, l'anoressia è una problematica che riguarda ragazzi sempre più giovani. Credo che oggi sappiate anche qualcosa in più della malattia, sappiate che comunque è una malattia complessa multifattoriale. Vediamo anche di inquadrare il problema per poi dare qualche indicazione in più anche ai genitori come accorgersi precocemente. Sì, dunque lei mi ha fatto molte domande in una. Intanto la prima cosa che mi sentirei di dire è che l'anoressia nervosa è un disturbo psichiatrico. Quindi il disturbo non è legato al cibo, il cibo è solo un epifenomeno diciamo, ma è un disturbo del pensiero. Quindi le ragazze, lei giustamente citava il fatto, parlando al femminile, perché è molto più frequente nelle ragazze che nei maschi il disturbo, hanno un'ossessione sulla loro forma fisica e sulla necessità di controllare questa e quindi di perdere peso in tutti i modi. Ha ragione anche nel dire che l'esordio è sempre più precoce. Cioè il disturbo, questo disturbo tende a comparire sempre più precocemente. Probabilmente anche perché nel mondo occidentale almeno si sta abbassando negli ultimi decenni l'età del menarca, cioè del primo ciclo mestruale. E comunque perché poi alcuni comportamenti certamente facilitano la comparsa del disturbo. Cioè il disturbo ha delle origini di tipo biologico, ma come ogni malattia interagiscono queste con i fattori ambientali. Quindi prima e fra tutti i modelli che vengono trasmessi dai media, dallo stile educativo dei genitori e quant'altro. Un'altra cosa che mi sentirei di dire è che è vera una malattia prevalentemente femminile, ma questo vuol dire che i maschi ci sono. E negli ultimi anni perlomeno noi assistiamo a un aumento considerevole del numero di casi tra il sesso maschile. Casi che possono superare anche forme ipodrammatiche. Come i genitori possono accorgersi? Beh, intanto il primo consiglio da dare ai genitori in generale è di guardare i propri figli, insomma, di osservarli, passarci del tempo e stare con loro. Ovviamente i primi segni sono legati a un forte dimagrimento. Questa è una delle caratteristiche principali del disturbo. Queste ragazze e ragazzi mettono in atto delle condotte per non farsi accorgere che non mangiano, che evitano il cibo. Questo è un comportamento frequente. Quindi ad esempio bevono acqua, si fanno porzioni molto piccole, controllano molto attentamente quello che mangiano, fingono di aver mangiato e invece non mangiano. Quindi un'attenta vigilanza a parte dei genitori è un elemento fondamentale. E comunque al primo sospetto e dubbio il pediatra, se ancora in età così precoce o comunque il medico di famiglia, può essere ovviamente un utile strumento d'aiuto. Molti bambini, anche piccoli, hanno magari delle fobie per alcuni cibi, colori in particolare, o magari comunque delle diete di esclusione, nel senso che poi scartano dal piatto alcune cose. Possono essere già questo un campanello d'allarme? Possono, non necessariamente. Però è vero, il richiamo che lei fa è molto corretto. Intanto la prima cosa, anche qui da sottolineare, è che occorre un'educazione alimentare, che spesso i genitori, un po' presi dalla frenesia del vivere quotidiano, dai tempi ormai molto ristretti, evitano di fare. Quindi un'educazione al cibo e al pasto, al momento del pasto, che è un momento comunitario, collettivo, familiare, in cui comunque scambiarsi opinioni, idee, quindi per carità mai la televisione a tavola, insomma il Tg bisogna guardarlo in un altro momento. La selettività alimentare a volte è semplicemente un capriccio da parte dei bambini, quindi appunto la necessità di ricorrere a regole educative chiare, ma a volte è la spia di un disturbo. Ad esempio, si associa molto frequentemente in quello che noi chiamiamo oggi disturbo dello spettro autistico. Non voglio allarmare nessuno, ovviamente non è che ogni caso di selettività sia un disturbo di autismo, però è un segno che accompagna frequentemente questo tipo di manifestazioni. Quindi educare a sapori diversi, cibi diversi, l'importanza dello svezzamento anche in tutto questo. Cioè quindi l'educazione alimentare è qualcosa che viene da lontano, quindi lo svezzamento al bibbero, dal ciuccio, dalle pappe, dalle diete semiliquide, c'è la necessità di masticare, sono tutti aspetti fondamentali e qui parliamo dei primi mesi e anni di vita del bambino, insomma, quindi in epoca precocissima. Quanto è importante anche coinvolgere una ragazza o un ragazzo nel momento in cui il problema sia conclamato nel percorso di recupero? Perché se manca una partecipazione, penso che qualunque tipo di dieta, di imposizione, di nutrizione anche esasperata non serva a nulla. Assolutamente vero, è fondamentale direi. Quindi, guardi, la consapevolezza del disturbo è il primo passaggio obbligato per pensare a un percorso di cura e questo spesso richiede molto tempo. Le ragazze non pensano di essere malate, pensano di voler controllare e di poter controllare a loro piacimento la loro forma fisica, anche quando sono, come dire, deperite in maniera gravissima anche. Quindi il lavoro che si fa in terapia è proprio questo, cioè di far acquisire consapevolezza, cioè coscienza del fatto che il loro modo di funzionare, di pensare il cibo, è un modo perverso, vorrebbe dire, o meglio, comunque disturbato. Anche quanto è importante, in conclusione, il follow-up, nel senso di tenere comunque sotto controllo, anche nel momento in cui il disturbo sia passato, quelli che potrebbero magari più avanti diventare dei trigger che possano far tornare un problema che magari in quel momento era sotto controllo. Sì, verissimo. Intanto, proprio in relazione a quello che lei dice, un disturbo del comportamento alimentare è un disturbo che va affrontato con tutto il nucleo familiare, tant'è che le terapie più efficaci di questo disturbo coinvolgono direttamente i genitori e la famiglia del minore, ancora di più che altri disturbi. La necessità di follow-up, cioè di seguire nel tempo queste ragazze, è importante. La buona notizia è che generalmente le forme giovanili, precoci, di anoressia sono quelle che tendenzialmente evolvono più positivamente, quindi se ne esce. Ecco, questo è l'altro messaggio da dare, credo, ai genitori che nella stragrande maggioranza dei casi se ne esce, si può guarire. Bene, allora concludiamo con questo messaggio positivo. Grazie mille, professore. Grazie mille.